Guardate adesso ragazzi, guardate adesso che roba One shotato! Aspetta, lo voglio piccolare Raga non se ne è accordo che lo stiamo trollando È un bug che fa così tanto Ragazzuoli bentornati sul mio canale Qua è il vostro refiz che vi parla E oggi Siamo in un video spettacolare raga Infatti come avrete detto dal titolo Oggi andremo a trollare uno di voi In una mappa con le hack Cioè non proprio delle vere hack Una mappa semplicemente nella quale tramite un trucchetto Si può attivare il danno quadruplo Quindi faremo il quadruplo di danno con qualsiasi arma ragazzi Io l'ho provata prima con Zasky È qualcosa di incredibile Ma prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale, attivare la campanellina Anche perché se volete partecipare ai miei video dovete essere iscritti Detto questo ragazzi io non perderei altro tempo Mi butterai subito in partita A tra pochissimo Hai detto che hai una bella mappa creativa Con questa specie di hack no? Sì E allora oggi dobbiamo andare a trollare uno degli iscritti Ok? Uno che ci sta chiedendo di fare il provino da tantissimo Noi gli faremo il provino ma lo trolleremo Zasky Allora ragazzi adesso invitiamo Icap E prepariamoci allo scherzetto ragazzi Ma prima vi spiego come funzionerà Entreremo nella mappa Zasky farà prima contro di lui un provino E si farà battere Per fargli pensare di essere fortissimo Io ragazzi nel mentre andrò ad attivare le hack Speriamo che non ci sgambi Se no Zasky dovremmo invitare un altro Quindi adesso ragazzi noi lo andiamo a invitare Zasky tu tieni meno occupato per un po' E let's go Invitare nel gruppo Speriamo che non conosca la mappa Zae Perché se conosce la mappa siamo fregati Siamo fregati Ragazzi io però vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale attivando la campanellina Fatelo mi raccomando Supportatemi che dobbiamo arrivare ai 2000 iscritti Manca sempre di meno Detto questo ragazzi Speriamo che Icap entri in fretta Eccolo qua Eccolo qua è entrato Ok Zasky adesso gli parlo eh Andiamo a fare il provino oggi va bene? Sappi che stiamo registrando Perché se viene fuori qualcosa di bello Lo mettiamo sul canale Oggi andrai prima a sfidarti con Zasky Poi verrai contro di me va bene? E soprattutto Zasky Parla con Icap all'inizio Perché devi tenerlo un po' occupato Mentre io vado ad attivare le hack Capito? Icap ti stiamo aspettando nella mappa Vieni vieni caro Eccolo eccolo Ok Avvia la partita Zasky E andiamo Allora Icap Mettiti subito in posizione Che partiamo subito contro Zasky Cioè parti subito contro Zasky Questa mappa l'ho già vista Dove l'hai vista Fra? Su Youtube Una mappa di hack Quali hack? Non ci sono hack E il primo ci ha sgamato L'ho Lui aspetta lui Peter Peter Luca Pansimo Bro se stai guardando questo video Ti prego Dimmi che non conosci questa mappa Ma no speriamo Bro speriamo che lui non la conosca Perché se no è finita Buonasera Buonasera Uh ha preso il pack di Joker Il nostro Peter Ciao Oggi andiamo a farti un provino privato Perché so che mi avevi chiesto E niente Metti pronto che andiamo Allora Zassi Se la sgama dobbiamo cambiare mappa Eh lo sai che se la sgama Dobbiamo cambiare mappa No non la conosce Zassi Non la conosce Zassi Non ha detto niente Non la conosce Ok Peter Iniziate al mio 3 3 2 1 Vai Attiviamo i poteri ragazzi 3 2 1 No aspettate eh Che qua c'è un problema Eccoli qua ragazzi Ora Ci buttiamo questa Che così non ci sgama Ma che siamo viola ragazzi Siamo pronti Fate uccidere Non lo so Zassi Fate uccidere Va bene va bene Peter Allora adesso sei contro di me Visto che ho visto un po' di difficoltà Facciamo una cosa Io mi tolgo la R 3 2 1 Vai andiamo 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 Let's go Let's go Guardate adesso ragazzi Guardate adesso che roba One shottato Peter Ti ho distrutto Scusami bro Rifacciamone un'altra se vuoi Dai vieni 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 Dai no problem Aspetta Lo voglio piccolare Fra Fra Ma che è successo Ma che è successo Beh io non so giocare Quindi comunque Raga non se ne è accorto Che lo stiamo trollando Si non se ne è accorto Te lo giuro Gli ho fatto tanta coltica Bene Peter Ultima va bene Peter Ok ragazzi Vediamo un po' Adesso ragazzi Ti devi accorgere però Che lo stiamo un po' trollando Dai lo piccolato Io tolto 260 No 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 Oddio Oh mamma mia Fra Mamma mia Ti ho preso benissimo Peter Raga non se ne sta accorgendo È incredibile questa cosa 3 3 2 1 Vai Ok ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Adesso raga devo fargli capire Che lo stiamo trollando Oh GG Ok ragazzi È il momento Di dire al nostro Peter Che lo stavamo Trollando Perché secondo me Non l'ha presa molto bene Anche se non è la reazione Che mi aspettavo Qui adesso Andremo a fare un altro Con qualcun altro Però intanto glielo diciamo Peter Che? Ma non ti sei accorto Che ti ho fatto 80 Con un piccone vero? Perché? Perché ti stavamo trollando Ti stavamo trollando Peter È per questo che ti ho fatto 80 Con un piccone Beh mi sembrava un po' strano Perfetto Bella Fran Oggi andiamo a fare un provino privato Bro Che non sono tanto forte Ma niente bro Stiamo facendo i provini privati Questo pomeriggio Quindi Dopo questo video Shooter Non sarò più Il tuo youtuber preferito Mi spiace Però Non ci credo Dai Allora Adesso Zaskia vi è la partita E tu inizi con lui Va bene? Ok ragazzi Sono partiti Ragazzi Andiamo a prendere le hack Prego dimmi Che non mi sgama Ok Preso 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 Ragazzi Sta per iniziare il troll Final Andiamo un po' a aspettare Intanto il ragazzo Vediamo un po' com'è Ragazzi Adesso facciamo Danno quadruplo Io vi avviso Danno quadruplo Allora bro Mettiti in posizione 3 2 1 E Let's go Ok raga Ti dico che mi sta laggando What the fuck bro Però ti ho one shotato Non lo so bro Può essere Ti ho one shotato bro Scusa quanta vita avevi? Io c'avevo 118 Ma sta laggando Ma a me mi sta laggando un botto poi Cioè avevo già fatto un provino no? Mi laggava sempre Cioè quando faccio i provini Mi lagga sempre no? Ok vavoro Va bene Va bene Va bene Ok bro Allora Dove sei finito? Dove sei finito bro Ma quante vita hai per l'esattezza? 48 Oh no 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 Oh dio Però qua ti ho shottato per bene Qua ti ho preso bene in testa bro Qua ti ho preso bene GG GG Va bene Va bene Vieni vieni tranquillo Non ti preoccupare Non abbiamo fretta bro Ti avviso che sei su un video su youtube eh Ok Oggi stiamo un po' registrando i provini Quindi non ti preoccupare Se sto parlando Non parlo da solo Allora vediamo un po' come te la cavi Per prendermi l'altezza Dai vediamo Adesso però bro Voglio vedere un po' Cerca un po' di pusharmi Magari Non so Riesci a darmi anche qualche hit Vediamo un po' Proprio voglio vedere un fight da vicino Per capire anche un po' Come te la cavi in questo Dai vediamo Non capisco dove sei Sono qua sopra di te Sono qua sopra di te Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Mi stai laggando un botto Bro stai laggando? Allora bro Non so se è la tua connessione Ma qua Sì è la mia connessione Ok è la tua connessione Ok va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene GG C'è una cosa Vieni qua dai Piglia il pompa Piglia il pompa oro Ma no Vieni così No no è perché almeno vediamo un po' Perché non so magari No no più che altro per il tuo lag No ma ti dico così bro Perché magari non so Per via della connessione Non riesci Lo so fra Capito Secondo me comunque Poi ho cambiato anche tasti Che tasti hai messo per curiosità Così per curiosità bro Ho cambiato solo il tasto dell'edit Quindi faccio un po' Vaticare Perché per modificare ho messo Il touchpad Che mi trovo meglio Ok bro io ti posso dare un consiglio Magari perché Vedo molta gente forte Che gioca da pad Che usa per editare il tasto R3 Prova magari col tasto R3 Magari ti viene meglio editare Comunque bro Adesso vediamo un po' Pusha il più che puoi Ovviamente Ok bro Ti sto arrivando Sto arrivando Sto indietro di te Sto indietro di te Mi hai preso No no bro 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 No 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 bro 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 Ah sono caduto Sono caduto Sono caduto Bravo bro C'ho 57 di vita eh bro Comunque Bravo bravo Andiamo let's go Let's go Vai 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 No bro No bro No bro dove sei No madonna Ti ho smirato due volte No bro Vabbè GG Ragazzi ci sta cascando Malamente bro Mi scuso con te Quando vedrai questo video Spero che comunque Lascerai un bel like Ragazzi mi raccomando Lasciate like a questo video Per vederne altri del genere Ci sta cascando finalmente Ne è andato uno Che ci sta cascando Zaski Fatemi sapere qua sotto Nei commenti se vi piace Se così è Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Mi raccomando Ma lo sapete È inutile che Ve lo dico ogni volta Ti avviso che adesso Ho una pistola E un pompa blu Ma aspetta No ma ti spiego Perché ho messo queste armi Un po' Un pelino più scarse Perché voglio vedere Tu come te la cavi Contro gente che magari Non so è appena atterrata E la vai a pushare Capito Quindi pushami più che puoi Va bene Ok bro Sono sopra Ok vediamo un po' Uuuuh Arrivo bro Ma è un bug che fa così tanto Non lo so bro Sai sinceramente non lo so Ok bro va bene Va bene Non lo so neanche io bro Sinceramente Solo con te capita sta cosa Ok va bene Va bene Dai il massimo che puoi Dai il massimo Let's go Andiamo Andiamo bro Andiamo Che la puoi fare Comunque non lo so bro Se è un bug mio O se è un bug della tua connessione Però effettivamente Ti sto facendo troppo danno Da lontano Con delle armi Lo so Non dovrebbero fare Eh non lo capisco neanche io bro Oh 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 Preso Craccato Aspetta che lo pusciamo Ok Ecco sotto Ok Va bene va bene GG bro GG Sicuramente puoi migliorare bro Sicuramente puoi migliorare Però mi raccomando Tu passa stasera di live Che magari te lo rifacciamo Se non c'è troppa gente Mi raccomando Passa E poi per ultima cosa Ti volevo dire una roba Praticamente tu Sei appena stato trollato Da refiz E zaschi Bro Eravamo in una mappa Che semplicemente Ti facevo il quadruplo del danno Ecco perché Non si capiva questa cosa Grazie a te Per essere venuto All'ultimo secondo Così perché Prima di te abbiamo provato A farlo con altre quattro persone Ma C'è chi ci ha sgamato C'è chi non poteva fare il video E Etcetera eccetera Quindi Grazie bro Ci becchiamo stasera in live Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Ovviamente Non avete sentito nessuno sclerare Urlare e robe Perché È tutto vero ragazzi Così funzionano i troll La gente non capisce No? Giusto zaschi? Quindi ragazzi Quando è il vostro office è tutto Noi ci becchiamo al prossimo video E ci becchiamo anche Stasera in live Bella ragazzuoli E ci becchiamo a fare